Un tablet donato da Rotary per i ragazzi, qual è l'importanza di questo strumento? Quello che noi cerchiamo di fare è qualcosa di un pochettino innovativo, cioè cercare di utilizzare il tablet come strumento per acquisire competenze nuove. E quindi in questo senso cercheremo di insegnare loro intanto come utilizzare un tablet, quindi qualcosa che può sembrare banale agli occhi di tutti ma non lo è. Come installo un'applicazione, come mando un messaggio anche solo su Whatsapp e non avere Whatsapp in un certo senso vuol dire essere tagliato fuori dal mondo. Quindi l'idea è diamo gli strumenti per utilizzarlo, attraverso questi rendiamoli più attivi. Cioè una volta che ho imparato come si utilizza, permettergli di utilizzare i tablet per restare in gruppo con essi, lavorare insieme sullo stesso documento, sullo stesso file e poi presentarlo agli altri. Diventare in un certo senso docenti della propria lezione. Questo è quello che vogliamo fare, poi insomma vedremo dove arriviamo. Come hanno accolto questo regalo? È stato accolto in un modo diverso, chiaramente chi è più giovane è la generazione Millennium, quindi i ragazzi che andavano fino ai 20 anni entusiasti, magari alcuni non avevano neanche il cellulare e quindi fantastico, contentissimi. Altri invece con un po' di paura, è normale, tutto ciò che è nuovo mi spaventa un po', magari ho appena imparato a utilizzare il computer e mi date già qualcosa altro da imparare. E quindi insomma, però diciamo che una volta rotto il gaccio, va bene, sono tutti entusiasti.